Direttore, l'area del Palasport Tricalle è stata individuata come area ideale per far effettuare i tamponi drive-in per coloro che ne avessero necessità? Sì, il Comune è stato collaborativo nell'individuare un luogo, purtroppo l'asilo dove siamo in questo momento non si presta più a un grande afflusso di macchine, per cui ieri sera ho chiamato il sindaco, lì ho proposto il Palasport e stamattina con il sopra luogo abbiamo convenuto che è il posto ideale. Non è tanto lo spazio, nel senso che lì abbiamo un locale che è il bar del Palasport che possiamo allestire per tutto il nostro personale, per cui lavoriamo in sicurezza, lavoriamo in tranquillità, avremo riscalamento perché andiamo verso l'inverno e per quanto riguarda le code, noi stiamo mettendo in funzione un elimina code per il drive-in, in modo tale che chi deve fare il tampone al drive-in avrà una fascia oraria e non dovrà più fare due o tre ore di coda. Quanti potranno essere i tamponi da effettuare quotidianamente? Noi in questo momento stiamo facendo 1.500 tamponi nella provincia di Chieti, chiaramente dipendiamo dalla capacità produttiva dei laboratori regionali, ma noi anche su invito del Presidente Massiglio stiamo cercando di arrivare a 5.000 tamponi al giorno. È un esempio bellissimo di sinergia tra istituzioni che non sempre c'è stata e che tuttora va costruita. Riscontriamo la buona volontà del Direttore Scelle e chiaramente ribadiamo anche la buona volontà dell'amministrazione, che si muove nell'ambito delle sue competenze ma fa anche qualcosa di più. Adesso andremo a risolvere il problema dei tamponi per il drive-in, poi ci sarà la questione delle vaccinazioni, sia vaccinazioni anti-influenzali che vaccinazioni anti-pneumococciche.